Buonasera a tutti, siamo qui riuniti per festeggiare, presentare e ovviamente divertire con questo mini ritorno che anticiperà tutti i progetti futuri. Silvia stiamo aspettando solo te, non voglio farla lunga, quindi la presentazione di questa puntata è finita. Andate in pace, amen, rendiamo grazie alla radio, alleluia alleluia. Conduttori di tutta la storia dell'invenzione della radio che è stata inventata, secondo le fonti di Francesca, nel 1820, ma col sonno che c'ha, ste fonti non è durata affidabile. Molto attendibili. Esatto. Detto questo, cantiamo tutti insieme, alleluia alleluia. No, scherzo, prego cantare gli auguri a me, grazie perché... Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Martina ti assorba a strato spero. Martina è collassata su me stessa, quindi è finita. Martina va a dormire, prego, posso vedere queste condizioni? C'è una faccia smostrefilata. È una fortuna per te sta cosa. Notiziona. Germania, 90 mucche hanno flautolenzato contemporaneamente e la fattoria che ha fatto ad una tè? Ha preso fuoco. Ha preso fuoco la fattoria. Alessio dichiara, io non c'entro niente. Ah, allora anche casa mia, non sai da quanta che va ad essere questa cosa. Eh, queste sono quelle addizie che tocca sapere. Come per esempio che i romani si lavavano i denti col cervello dei topi. È bello perché con tutto il sonno che c'èmo, tu fai una battuta, ma c'è il tempo di pensare in altra, perché quella di prima ci ridono qualche ora dopo. Che cosa vogliamo presentare stasera? Vogliamo innanzitutto presentare la nuova sigla, che adesso è in fase di montaggio perché vogliamo fare una cosa molto professionale. E quindi sarà questa nuova sigla. E poi volevamo salutare Silvia che queste prossime puntate che cosa faremo? Faremo delle puntate totalmente dedicate a degli artisti italiani. E inizieremo con la grandissima Silvia a cantare, a cantare Mina, quindi una puntata dedicata a Mina. E le puntate... E di vista la Mina. E adesso è una bella Mina tutti qua. Ci sono parecchi, sì, le Mina. E adesso le puntate si intitoleranno, le canzoni, le puntate si intitoleranno, tutto il resto è il nome dell'antista, quindi tutto il resto è Mina. Poi arriverà anche una puntata che si chiamerà Tutto il resto è noia, ma non vogliamo dire che il cantante canterà. Benissimo, quindi salutiamo Silvia perché studia più adesso per la radio show che quando stava a scuola. Perché le canzoni sono tante, sono complicate, Mina è molto difficile, quindi è da apprezzare. E adesso Silvia sbrigati perché siamo tutti frenetici di ascoltare la nostra Mina. Adesso, volevo dire una cosa ma non so scordato. E adesso si è fatta l'ora, è arrivato Baioni e noi ce la sciacquamo dai Bip. Quindi, andiamo a dormire assolutamente perché domani è un altro giorno e siccome non è sanzuchero, toccano a scuola tutti quanti per forza. A parte Donatella che andrà all'università della terza, quarta età, ma quelle vabbè sono cose più avanti. Grazie a tutti per la festa a sorpresa, grazie per la cena, per tutto. Ci vediamo, no, io sono puntuale, voi vi avete detto le quattro e mezza, io alle cinque e mezza, stevo a casa. E c'ho anche l'orlogio per un quarto d'ora avanti. E quindi possiamo, andiamo. E come dice la barzelletta, se ti dico andiamo, argimo. Buonanotte a tutti e ci vediamo con la prossima puntata con Silvia perché tutto il resto è Mina. Buonanotte a tutti e alla prossima puntata.